Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Folli, scalciatore professionistica, ho il ruolo da responsabile tecnico in Giovani Promesse e devo dire che sono molto felice perché stiamo facendo un grandissimo lavoro, sia con i miei tecnici che con l'organizzazione, ma mi preme dire ringraziare questa splendida terra e soprattutto il sindaco e l'assessore Milone Rosario che hanno concesso questa struttura a noi. Abbiamo visto grandissima voglia dei ragazzi, grandissima passione e spero che possiamo accontentarli in tutto quello che vogliono, anche se tutti non possono arrivare, però abbiamo visto qualche ragazzo molto interessante, siamo molto 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 felici di questa accoglienza che abbiamo avuto qui a Capodorlando e sicuramente torneremo. Un saluto a tutti!